Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo canale allenatore, io sono sempre Andre e oggi siamo qua con una nuovissima top dei migliori terzini destri Abbiamo visto i portieri, i terzini sinistri, i difensori centrali e per finire la fascia difensiva direi di andare a vedere i terzini destri finalmente E iniziamo subito con il primo, un giocatore del Manchester City che può fare l'ADA, quindi il quinto di difesa ma anche l'esterno volendo Pedro Porro, spagnolo, 74 di overall di base per arrivare a 85, quindi partiamo forti ragazzi, partiamo subito forti Abbiamo detto del Manchester City, 3 massabilità, 3 piedi debole, 1,76 per 71 kg, quindi è abbastanza bassettino Occhio se lo volete usare come terzino perché ha un livello di intensità attacco alto ma a livello di intensità difesa medio Quindi è sicuramente un giocatore molto offensivo, è un terzino, si può adattare benissimo ma sicuramente come quinto di difesa o esterno Potrebbe fare sicuramente la parte migliore ma come terzino ragazzi basta allenarlo veramente un niente e potrete già utilizzarlo Vale 9 milioni di valore, ha uno stipendio di 7700 euro Poi comunque dal punto di vista difensivo anche se lo comprate e lo volete mettere subito in difesa è buono È 68 di lettura difensiva di base, è ottimo Poi comunque se riesce ad arrivare lì davanti, se comunque vi piacciono terzini offensivi Lui ha 68 di potenza tiro, 75 cross, 78 controllo palla, 76 dribbling, 61 finalizzazione ragazzi per un terzino barra esterno è tantissimo E ci sono attaccanti che non hanno questa finalizzazione Quindi sicuramente Pedro Porro consigliato ragazzi Chiaramente vi ripeto, occhio se vi fa qualche buco è perché chiaramente è uno che è molto improntato verso l'attacco Però comunque ha un 78 di resistenza quindi anche da questo punto di vista se va davanti riesce a tornare indietro anche abbastanza agevolmente Il secondo è sempre in Premier League ovvero Tariq Lamptey del Brighton In inglese 66 di overall per arrivare uguale a Porro 85 quindi cioè l'85 è l'overall più basso che arrivano questi giocatori Quindi veramente tanta roba questi terzini Lui è veramente giovane, può fare anche lui il quinto di difesa ma lui secondo me è un po' più difensivo Anche se comunque ha un worker di attacco alto e di difesa medio Ma secondo me Lamptey è molto più difensivo di Porro Chiaramente ha comunque 61 di lettura difensiva Parte con un overall minore di Porro perché Porro parte con 74, lui con 66 Arrivano allo stesso potenziale ma Lamptey vale 2.100.000 e ha uno stipendio di 6.900 Vale meno della metà chiaramente Gioca nel Brighton, Porro gioca nel City quindi c'è anche questo fattore da valutare nel valore Per il resto è molto veloce 86 di accelerazione, 76 di scatto, 77 agilità e 91 equilibrio L'equilibrio io ve lo ripeterò sempre all'infinito ragazzi è un valore sottovalutato secondo me È fondamentale che un giocatore abbia un buon equilibrio perché sennò è inutile avere tanta velocità se non si ha buon equilibrio Poi lui rispetto a Porro per questo che vi dico che secondo me è un po' più difensivo Ha un 35 di tiro, un 33 tiro dalla distanza, 29 finalizzazioni Insomma non è di certo il giocatore che lì davanti potete aspettarvi che gli faccia gol Anzi se dovesse farlo dovete ringraziare non so chi Però comunque l'ettore difensivo ha 61 dal punto di vista tecnico Comunque 61 in passaggio corto, 57 in passaggio lungo Ha anche una caratteristica speciale che è il driblatore veloce Quindi secondo me l'Amte è un buonissimo terzino giovane perché c'è 19 anni da coltivare e far crescere molto bene Il terzo è Alexander Arnal Lui chiaramente è il king di questa top, è il miglior terzino destro almeno col potenziale più alto di Fia 21 È anche uscito Totti ragazzi quindi ci sarà un motivo se anche quest'anno è il miglior terzino dell'anno 21 anni inglese del Liverpool, 92 di potenziale da 87 di overall Non è tantissimo i punti crescita ma capite che 87 e 92 valgono più di 20 punti crescita praticamente Vale 114 milioni di euro e ha uno stipendio di 110 Quindi ragazzi sono veramente tanti e sono veramente tanti soldi Ma ha 3 impossibilità, 4 i piede debole Lui lo conosciamo è molto improntato verso la fase offensiva Ma ha veramente una resistenza 88 Cioè questo qua vi fa la fascia avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro Con una costanza incredibile e con una tecnica incredibile Perché comunque ha 89 di passaggio lungo, 85 di passaggio corto Potenza tiro 80, 93 di cross e poi è un terzino che può far tutto Vi batte gli angoli, vi batte le punizioni Se volete vi batte anche i rigori anche se c'è 55 ma lo può fare ragazzi Lo può fare assolutamente e infatti cross anticipati Secondo me li ha messo per quella partita contro il Barcellona questa caratteristica speciale Passaggi lunghi e tiro da fuori Alexander Arnold oltre ad essere un ottimo terzino dal punto di vista difensivo È veramente tanta roba quando arriva là davanti, fa paura, fa paura E poi ragazzi abbiamo Serginio Dest, occhio a questo americano 19enne Occhio, terzino destro del Barcellona con 75 di overall di base ma con 88 di potenziale È il secondo con più potenziale di questa top, cresce tantissimo Serginio Dest Ed è molto interessante, 4 mossabilità, 4 di piede debole, mica male Poi anche lui è molto offensivo perché ha work rates attacco molto alto e work rates di difesa basso Quindi occhio, è molto offensivo anche lui Però ragazzi è comunque un treno, 67 elettore difensivo nonostante un work rates di difesa basso 88 accelerazioni, 86 elettore di scatto, 87 agilità, tanta roba questo Serginio Dest E vale un pochettino ma comunque ci si può arrivare Se non avete voglia di fare trattative per il valore di 11 milioni e 5 potete piazzargli la clausola di 25,9 e ve lo portate a casa Chiaramente per un 19enne, anche se del Barcellona, anche se con queste caratteristiche 25 milioni potrebbero essere un po' tanti Sinceramente, però comunque è un grandissimo giocatore Ha anche classe come caratteristica speciale che non fa mai male assolutamente Torniamo in Premier League con il prossimo terzino destro Rhys James del Chelsea che può fare addirittura il mediano questo ragazzo Quindi già vi sta a indicare che tecnicamente è molto forte 20 anni, 3 possibilità, 3 piedi debole, 86 di potenziale da 77 di overall, tanti punti di crescita Vale 22 milioni di euro e ha uno stipendio di 49 mila Vale così tanto perché questo ragazzo si è veramente messo in mostra come si deve fare Si è giocato alla grande le sue capacità e le sue possibilità È molto veloce, 78 di accelerazione, 81 velocità scatto, 74 agilità 73 potenza tiro, 81 cross, lettore difensivo a 71 Cioè ragazzi, è completo, può fare anche il mediano ma può fare il mediano veramente bene Cioè ha veramente statistiche per fare il mediano della madonna E quindi qua potete gestirvelo voi Se vi serve un terzino ve lo comprate come terzino Se vi serve un mediano ve lo comprate come mediano Chiaramente è tanta roba perché anche poi dal punto di vista di potenza tiro Tiro da distanza c'ha 73-62 Quindi non è proprio anche se è un terzino lo mettete lì davanti fa fatica Anzi, probabilmente come mediano può anche risolvervi qualche partita in più E poi appunto cross anticipati come caratteristica speciale Il prossimo ragazzi si torna in Liga Santander da Dest E abbiamo Emerson, giocatore del Betis Terzino destro, esterno destro o quinto di intivesa a destro 21 anni brasiliano, 78 di overall di base per arrivare a 85 Quindi anche lui comunque arriva all'85 Due caratteristiche speciali, partiamo subito da qua Perché tiro da fuori e dribblatore veloce Perché partiamo da qua? Perché mi ricordo, io l'avevo già fatto vedere in una top questo giocatore E mi ricorda un sacco Dani Alves Lo so che può essere un paragone un po' forzato Un po' alto come paragone Ma secondo me è veramente molto molto simile E un buonissimo giocatore Perché poi ha 77 di potenza tiro ma 70 di attura difensiva 75 di cross, 62 tiro dalla distanza 72 dribbling Ma comunque 79 accelerazioni, 80 minuti a scatto Poi dal punto di vista tecnico è veramente forte 77 è passaggio corto, 65 è passaggio lungo Ci assomiglia ragazzi, lo ricorda molto al Dani Alves E poi comunque non è proprio così economico 30 milioni di valore, una clausola di 70 milioni praticamente E uno stipendio di 16.500 E beh non è poco, non è poco ma con 30 milioni Ve lo potete portare a casa Ottimo, ottimo giocatore questo Emerson Il penultimo di questa top è Thomas Tavares del Benfica Andiamo in Portogallo Terzino destro, 19enne portoghese, 73 di overall per arrivare anche lui a 85 Vi ho detto che sotto l'85 non si scende Terzino con 4 massabilità e 2 di piedevole Vale 7 milioni e ha uno stipendio di 9.000 Quindi è poco Poi con questi capelli, con questo game face Questa capigliatura un po' così È anche bello di avere in campo 1.87 per 77 kg Un bel terzino grosso Ma anche abbastanza veloce 78 accelerazione 80 velocità scatto Controllo palla 74 Dribbling 75 Ottime caratteristiche E dribblatore veloce come caratteristica speciale Thomas Tavares da tenere d'occhio ragazzi Occhio E l'ultimo, ritorniamo ancora in Premier Sono tutti i migliori terzini Praticamente con Nico Williams L'abbiamo visto veramente in tante salse questo giocatore 19enne del Liverpool gallese 67 di overall di base E chiaramente anche lui 85 di potenziale Quello abbiamo visto nei migliori giovani Nei migliori giovani del Galles Lo vediamo anche oggi Migliori terzini del gioco E un motivo ci sarà ragazzi Ci manca soltanto comprarlo 2.500.000 di valore 11.000 come stipendio settimanale Quindi vale veramente niente E poi allenato Questo diventa un treno ragazzi Diventerà forse come Arnold Ma comunque ci si avvicina molto È molto veloce È molto bravo tecnicamente Chiaramente non vi batterà le punizioni Gli angoli come fa Arnold Perché di Arnold ce n'è uno Però è un giocatore che gli si avvicina tanto Quindi ragazzi siamo arrivati alla fine Di questo video Siamo arrivati anche alla fine Dei difensori e dei portieri Quindi dal prossimo video Inizieremo con i centrocampisti Poi esterni Eccetera Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se vi è servito Commentate Attivate la campanella E ci sentiamo al prossimo video Ciao ragazzi